Un saluto a tutti i clienti di Escamoshop, in questo breve video vi dimostreremo che cos'è una batteria compatibile, parliamo di un prodotto compatibile per la Xbox, è compatibile con la Xbox 360 Slim, con la Xbox 360, ecco, a prescindere dalla versione, effettivamente tutte le Xbox hanno, cacciano delle prese USB, quindi parliamo del prodotto che si alimenta tramite USB, i controller della Xbox sono sempre quelli lì, quindi è praticamente compatibile con tutti i modelli Xbox che ci sono in circolazione, è una batteria da 4800 mAh, è una batteria in pratica che viene collegata al controller e viene ricaricata da questo cavo, in pratica questo cavetto, che questa estremità che vedete in pratica che avete voi di fronte viene collegata dietro al controller, mentre invece l'altra estremità di un cavetto USB, in pratica serve per collegarla all'USB e dare la ricarica alla batteria, ovviamente la batteria non deve essere obbligatoriamente collegata al cavetto per il corretto funzionamento, ma basta ricaricarla anche mentre si sta giocando e in pratica quando questo LED smette di essere acceso, questo LED posto sulla parte posteriore di questo attacco che va collegato al controller vuol dire che la batteria in pratica è carica, scollegando questo cavetto avete la possibilità di giocare senza effettivamente avere collegato il controller da qualche parte, quindi comunque il controller inizialmente per la ricarica funziona solo ed esclusivamente tramite il collegamento alla porta USB, una volta che la batteria è carica potete giocare tranquillamente col vostro controller wireless, diciamo la batteria da 4800 mAh ha bisogno in pratica di 5-6 ore di ricarica per avere la possibilità di giocare anche per 18-20 ore di continuo senza mai andare a scaricare il vostro controller. La batteria la vedete in colore nero, l'abbiamo disponibile anche in colore bianco perché come sappiamo la Xbox produce i controller di due colori, di colore bianco e di colore nero, ovviamente quell'ero ha col controller nero e il bianco è per il controller bianco. Diciamo che è un prodotto compatibile, effettivamente i 4800 mAh riescono a dare al controller una stabilità molto più lunga rispetto alle batterie tradizionali che si trovano all'interno, che vi escono le classiche stilo che mettete all'interno del controller, quindi ecco la cosa positiva è che un prodotto effettivamente a basso costo vi dà sia la connessione USB con l'attacco per la ricarica della batteria e poi ecco la batteria essendo ricaricabile potete anche ricaricarla una sua volta e avere la possibilità di giocare per 20 ore. Abbiamo doppio colore, la disponibilità di colore c'è il colore bianco e il colore nero, ognuna ecco adatta per i colori che vengono prodotti i controller. Bene, con questo ho concluso il video, ringrazio tutti gli amici di Ascamoshop per averci seguito il video appuntamento, alla prossima.